Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui in questo video e come promesso vado ad acquistare il mio primo camion la mia scelta è sia orientata su Scania visto che è una marca che mi piace Scania e Volvo, il resto insomma mica tanto magari nuovi modelli, sì ma in questo gioco non ci sono quindi tocca accontentarsi bene eccomi qua nella concessionaria, pronto per acquistare un nuovo camion i soldi a disposizione sono a 235.000 euro no troppo lungo, vediamo Scania 420, no vediamo se è qualcun altro, 360, troppo ceo e magari non c'è, questo qua no, neanche, questo nemmeno, questo neanche e c'è questo qui che ha il 360, va bene, prenderò il 420 qua allora voi se volete personalizzarlo andate su personalizza configurazione e voilà eccoci qua pronti per modificare il nostro camion ora è qua velocizzo il video così voi vedete in velocità come viene creato il camion come viene modificato grazie 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 bene ecco qui il nostro camion bello e finito, vedete come è stato modificato per bene quel grifone e anche la carrozzeria qui è stato modificato per bene, neo a manego che mi piacciono, trombe, fari cazzo qua ho sbagliato a mettere un faro, ora correggo subito qua tutte le parti qua accessori qui merda, ho sbagliato ecco qua il vostro camion, bello pronto, potete fare anche una foto cheese e ora andiamo a pagare il tutto totale 187 mila euro carrello tutto quanto, tutto, 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 tutto conferma ed eccolo qua acquista e grazie per aver acquistato il tuo primo camion wiii ed ecco arrivato il mio camion bello e pronto continuo continuo anche la presentazione tutto bel offerto fisso questo è il mio garage voi che ne pensate no? a me piace è fatto molto bene adesso vediamo anche le luci ta 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 uuuu mamma che figata neon troppo bello mi piace moltissimo eh portiamo la bestione al garage senza sparare bene intanto lo lasciamo qui e con questo video è tutto ci vediamo alla prossima un saluto anche dal mio Scania bello pompato tutto bello figata ops ha avvenuto un faro nooo ha avvenuto un faro cazzo nooo ma si dai dai da un po' modifico ah si si adesso vado a dormire si va bene con questo video è tutto alla prossima ciao ciao